sul caso uggetti il leader della lega sul foglio sono convinto che oltre alle scuse servano azioni concrete dopo luigi di maio che sulle colonne del foglio si è scusato pubblicamente con l'ex sindaco di lodi simone uggetti recentemente uscito indenne dopo anni di indagini e processi finiti nel nulla tocca a matteo salvini sono convinto che oltre alle scuse servano azioni concrete scrive il leader della lega sul foglio ricordando di aver espresso solidarietà a oggetti che anche la lega aveva criticato aspramente in realtà oggetti su repubblica sottolinea che da salvini mi aspetto ancora delle scuse durante la campagna elettorale del 2017 ricordo bene che mi mò il segno delle manette sono contento della solidarietà ma mi aspetto delle scuse quel gesto è stato umiliante nei miei confronti salvini sposta l'asse del discorso dal caso uggetti alla riforma della giustizia è troppo facile esprimere solidarietà per l'ennesimo caso di mala giustizia se però non si muove un dito per cambiare la situazione credo che i tempi siano finalmente maturi anche nella coscienza dell'opinione pubblica scrive salvini sul foglio per mettere mano a un settore vitale per la nostra democrazia salvini proprio quindi a di maio un impegno per sostenere il referendum che la lega e il partito radicale stanno preparando tra i quesiti la proposta della introduzione della responsabilità civile dei magistrati che sbagliano per salvini è ora di cambiare la lega e il partito radicale ci sono ampie fette di centrodestra idem mi piacerebbe avere il sostegno di di maio grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti